Buongiorno e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Guida pratica ai lavori d'officina, introduzione all'officina meccanica. È un libro della serie Workbook, i libri per lavorare, editore di Brisandi, autore Silvano Asnadi. Le pagine di questo libro sono 230 ed è un manuale operativo dedicato ai lavori d'officina. Vediamo un po' il sommario. La base, metrologia, ceni di disegno tecnico, ciclo di lavorazione, alcune lezioni sui materiali, tracciatura, lavorazioni al banco, operazioni alla forgia, macchine utensili, molatrice, il lapidello, il trapano sensitivo, il tornio parallelo, la fresatrice, carpenteria. È un libro ricco di immagini, di schemi e di tante nozioni e trucchi per ben imparare l'introduzione all'officina meccanica. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per i prossimi nostri video. Grazie. Grazie.